Stop! 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 Stop chi? Stoppire, non mi va più niente. Reggi la baguette. Ma cosa vuole? Magari un limoncello dopo però. Oh, scorsetta! Allora le vecchiarelle per il provino, infila qua col rosario in mano per favore. Scusi, cosa sto facendo? Sto preparando il mio nuovo talent show. Si tratta praticamente di un documentario sulle vecchiarelle che vanno in gita alla Madonna di Lourdes. E come si chiamerà? Amici di Maria! Non, non, non!